Anche un atleta svizzero che si era tuffato nella senna per la gara di triathlon maschile mercoledì scorso presenta sintomi di gastroenterite ma il suo comitato olimpico, contrariamente a quello belga, non ha ritirato gli atleti dalla gara di stamattina in quanto i medici non ritengono evidente un legame di causa-effetto fra la gara effettuata e il sopraggiungere dei sintomi. L'atleta in questione sarebbe Adrian Brifford, arrivato 49esimo e a un certo punto della gara finito sott'acqua dopo aver urtato un collega. Il medico della squadra svizzera si dice non in grado di stabilire un legame palagastoenterite dell'atleta e la gara.